Buon salve e benvenuti al riassunto dell'inside Star Citizen del 12 agosto e 19 agosto. Iniziamo subito, il PvP è parte integrante dell'esperienza di gioco, pur ovviamente non mettendo in un angolo la parte di PvE. Star Citizen prevede sistemi più sicuri e dunque più portati al PvE, e anche sistemi senza legge, tipo Pyro dove il PvP sarà centrale, e ovviamente vari sfumatori nel mezzo. I luoghi PvP saranno spesso anche quelli più pericolosi e dunque dove si troveranno maggiori profitti. Ninetales Lockdown prevede sia di supportare le forze di sicurezza, ma anche i pirati, ponendo le basi per uno scenario PvP-PVE. E questo evento è attualmente presente ogni tanto nella 314. In futuro arriverà un altro evento totalmente PvP chiamato Jumptown 2. Per chi non lo sapesse, in passato si poteva comprare sostanze illecite ad un costo molto ridotto a Jumptown su Iela. Questo rompeva totalmente l'economia di gioco, ma portava i giocatori a scontrarsi ferocemente per il dominio su quell'area. Jumptown 2 vuole riproporre questo tipo di situazioni, ma come evento dinamico ripetibile. Questo ovviamente per non distruggere l'economia, visto che le sostanze saranno disponibili ad un prezzo molto ridotto solo per un periodo limitato, ovvero qualche ora. È un evento che punta al gameplay emergente, dove vengono dati degli elementi e poi saranno i giocatori interagendo tra di loro a creare dinamiche nuove e interessanti. Sarà anche possibile requisire la droga a quanto fare e darla alle forze di sicurezza per ottenere reputazione. I ragazzi di Firespread, cambiando discorso, stanno lavorando ad un rework delle mappe di Arena Commander, ovvero Broken Moon e Dying Star, in arrivo questo per la 3.15. Saranno circa 10 volte più grandi rispetto a prima, avranno 3 aree distinte in modo da rendere i combattimenti un po' più vari e ovviamente utilizzeranno gli assets e le tecnologie più recenti sviluppate dalla CIG. Sappiate comunque che nonostante queste location rappresentano luoghi specifici dell'universo di Star Citizen, le mappe di Arena Commander non rappresentano come saranno questi luoghi nell'universo, poiché alla fine queste modalità sono giochi dentro il gioco per quanto riguarda la lore. Passando all'Inside Star Citizen del 19 agosto, stanno lavorando sui ospedali. Gli ospedali di Horizon e di New Babbage sono già in parte presenti in Atec 14, ma nella Atec 15 non solo li completa e li rende funzionanti, ma sono previsti anche quelli di Grimax e delle stazioni. Questi ospedali prevedono alcune location che hanno realizzato teorizzando le funzionalità che man mano verranno implementate, c'è un ascensore dove poter mettere le barelle con i malati, c'è la farmacia dove comprare medicinali, negozi assicurativi, ovvero dove si imposta il punto di spawn. In ogni caso, si vede che già hanno lavorato parecchio a questi ospedali, sono delle belle location, anche se ovviamente il piano è cercare di visitarle il meno possibile, ecco. Gladius, Saber e Retaliator, il passaggio di miglioramento di questi veicoli che c'è stato negli ultimi mesi viene chiamato internamente Gold Standard Plus. In sostanza è un prendere la nave e migliorare metriche, funzionalità, illuminazione e dettagli, dunque rendere queste navi comparabili a quelle recenti e adatte alla qualità che intendo perseguire per Squadron 42. La Retaliator è la nave che ha richiesto più lavoro, non solo è più grande, c'è tutta la gestione degli interni, dei torretti, componenti interni, le metriche, delle porte da cambiare, c'hanno perso tempo, ecco. Hanno cambiato parecchio, per esempio ora ha un solo ascensore, ma più grande, hanno anche messo mano ai moduli della nave, sono pronti, bisognerà aspettare però che la funzionalità di swap dei moduli sia pronta, ecco. Suntiamo. E niente, con questo abbiamo finito, qui è Marcosas e ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti!